Vicenza si tinge di rosso, rosso come la solidarietà quando è vita. Immagini di monumenti e municipi di tutto il Vicentino illuminati in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. A Vicenza l'epicentro della celebrazione è stata la Basilica Palladiana, un momento di festa per Fidas, ma anche di incontro con le istituzioni, dal sindaco al prefetto che hanno lanciato il loro appello. Fidas Vicenza è qui per ringraziare tutti quanti i donatori di sangue, i vicentini, per quanto fanno ogni giorno. Uno dei valori fondanti della nostra Costituzione è la solidarietà che trasversalmente la abbraccia tutta. Ecco, loro nella realizzazione di questa attività di donazione costituiscono espressione di cittadini esemplari. Invito ancora tutti i cittadini a farsi avanti, a donare sangue, ne abbiamo tantissimo bisogno e quindi avanti tutta.